E tutti quelli che non giocano conoscono solo il Monopoly e conoscono solo il Cluedo. Ma perché? Perché lì c'è comunque marketing trasversale. Secondo te oggi su quali strade dovrebbe investire il mondo editoriale sotto questo profilo? Cioè solo sul prodotto, anche sul mondo dell'azienda, quindi tutto dietro le quinte, lo staging, eccetera? Sul mondo eferistico? Come lo vedi potenzialmente utilizzabile lo strumento video in questo mercato un po' più a 360 gradi? Io da questo punto di vista ho tantissime idee. Secondo me a 360 gradi tutto. Perché il branding oggi secondo me è fondamentale. Io seguo anche delle aziende a livello proprio di campagne social e basta. senza bisogno di fare prodotti video per forza. E quindi il branding è comunque fondamentale. Io faccio sempre un esempio molto semplice. Perché la Coca-Cola non smette di fare pubblicità? C'è un motivo per cui continuiamo a vedere Babbo Natale che si scolla le bottiglie a Natale e che stappa sulla spiaggia d'estate. Non credo che qualcuno al mondo non conosca il prodotto. Per cui il branding è fondamentale sempre e comunque. Il branding per un'azienda di giochi da tavolo potrebbe davvero essere, perché no, un backstage di quello che c'è. Tu, voglio dire, tu porti sui canali da tempo, no? Come si fa una cosa, come si realizza qualcos'altro. Perché non fare dei piccoli backstage? Adesso ti do delle dritte che tu farai fare a qualcun altro e non a me. Voglio dire, quando tu produci un gioco, lo metti sul mercato col tuo nome, eccetera, c'è un lavoro dietro. Che può durare anche un anno. Ma perché non fotografare, perdona il termine, col video, questo anno di lavoro e poi quando esce il gioco raccontarlo con un piccolo, proprio con una piccola parte narrativa dicendo l'abbiamo portato qua con questo amore, no? Quello fa, quello amore che dicevi tu, dici io ne parlo bene ma ci ho speso un sacco di soldi, ci ho investito. Ecco, questi, non i soldi, però il tempo, il lavoro fatto insieme, le ore sudate con i colleghi, con le cose. Questo non lo sente nessuno, no? E questo fa parte del branding e può affezionare. Oggi siamo in un momento anche, come ben sai, di acquisizioni, di giochi, Genos, aziende che si ingrandiscono. Allora, questo carattere, questo, perché, cioè, se vuoi far pesare questa cosa, secondo me il branding qua è importante. E lo puoi fare, questa è un'idea, poi ce ne sono mille altre che possono esserci. E poi sicuramente per me, ripeto, la comunicazione emotiva del lancio del gioco da tavolo e l'hype per me sono fondamentali. Bisogna giocarli bene, bisogna sicuramente fare un investimento economico sui social e sui mezzi di comunicazione. Io, anche qua, facendo un esempio del mio passato in pubblicità o comunque dei ricordi di quando studiavo, eccetera, quando arrivò la 3 in Italia, tantissimi anni fa, io ricordo che c'erano i cartelloni in giro per Milano, io sono in Milano e provincia, con il numero 3 e sotto c'era scritto, stiamo arrivando, punto. Ma per mesi, per mesi c'è stata questa cosa qua, solo quella, nessuno sapeva neanche di cosa si trattasse. Quindi ecco, secondo me la generazione dell'hype, lì mi riaggancio sempre a prima, come si fa per la musica, io lo facevo in Mediaset, quando lavoravo in Mediaset, i tagli musicali, i tagli musicali a 15, 30, 45 e un minuto. Perché? Perché poi a livello di marketing vengono usati proprio in quel modo. Quindi ti danno all'inizio una cosa, magari tu per una settimana vedi una cosa che dura 15 secondi e non hai ancora capito cos'è. È fatta da Dungeon Dive, quindi avrà a che fare con un gioco da tavolo, ma cosa? Perché? Ok. E poi la trasversalità del messaggio, perché col trailer, con il video emotivo, sei comunque trasversale. Poi giustamente lo dici tu, io per andare trasversalmente devo andare sul grande pubblico, è più complesso, è più costoso, sono d'accordo. Però se il messaggio non è trasversale, puoi andare dove vuoi. Devi partire comunque da un messaggio che parli al non giocatore e al giocatore nello stesso modo. E il giocatore lo catturi con tante piccole cosine, ma il giocatore sai già che dopo quel video andrà a guardarsi un tutorial, andrà a leggersi una recensione o andrà a vedersi un gameplay. Il non giocatore comincerà solo ad essere attratto da quell'idea. Che esiste quella cosa lì. Spesso, no? Anche nelle tue interviste si parla, e tutti quelli che non giocano conoscono solo il Monopoly e conoscono solo il Cluedo. Ma perché? Perché lì comunque c'è marketing trasversale.